Resistono oggi i mercati delle criptovalute, resiste anche un po' il mercato hold. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, mi sentite ancora? Sono iper malato, sono stato influenzato praticamente tutto il viaggio di Amsterdam purtroppo, per ovvi motivi ragazzi, perché in viaggio essendo influenzato diciamo che non si ci vede molto molto bene. Comunque in ogni caso ho partecipato attivamente anche a tutte quelle che era la barata della conferenza di Bitcoin Conference, ne parliamo anche in questo video, ho cercato di fare il possibile, vi ho anche aggiornato su una serie di video proprio in settimana, nonostante questa voce terrificante, abbiamo fatto un gran lavoro di networking con gli altri youtuber in Italia, abbiamo conosciuto Marco Casario, fatto una live insieme nella giornata di domenica, Insomma, una grandissima settimana di lavoro di squadra, ma soprattutto nuova linfa, nuove idee, nuovo modo di ragionare, che poi è quello che servono, diciamo, è quello a cui servono queste conferenze. Da un punto di vista invece di conferenza Bitcoin, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Andiamo a fare un po' un'analisi di quello che stanno facendo i mercati in questo inizio della settimana. Ci sono un po' di news da andare a vedere e mi aspetto un po' alcuni atteggiamenti anche da un punto di vista operativo, ma già vi dico che probabilmente il clou di tutta questa fase la inizieremo a vedere verso la fine del mese di ottobre e da qui ai prossimi dieci giorni non mi aspetto una eccessiva volatilità. Poi ovviamente il mercato fa sempre quello che vuole, ragazzi, però andiamo a vedere un po' di coste oggi e vi spiego anche alcune operazioni che ho aperto, ma sono trading, non position di medio-lungo periodo. Per quanto riguarda la conferenza di Bitcoin in Olanda, Amsterdam, tante conferme, ragazzi, soprattutto la questione Lightning, molto sviluppata, l'idea di fondo che si avvicina a Bitcoin è quella di aggiungere anche un eventuale sidechain, se è fattibile o non fattibile, quindi un compromesso tra la sicurezza e la usabilità di Bitcoin, un'innovazione che poi a volte lascia un po' anche a desiderare, è veramente necessaria nell'ambito Bitcoin oppure si può utilizzare altre crypto. In ogni caso è giusto anche in questa fase andare a sperimentare probabilmente, quindi nell'immediato futuro, passata questa fase, potrebbe essere molto interessante vedere le mosse che farà Bitcoin proprio per un po' ridurre alcuni divari che ci sono con Ethereum, per esempio, e soprattutto mantenere la sua integrità, che è quello che poi fondamentalmente interessa a tutti. e vi ricordo che Bitcoin, essendo crypto è una tecnologia, ragazzi, è un modo di pensare diverso rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi cento anni e questo è importante per comprendere che ragionare nelle ottiche che abbiamo visto negli ultimi cento anni per, diciamo, estrapolare, per agguantare l'idea di Bitcoin è sbagliato, perché l'idea di Bitcoin essa stessa è una rivoluzione che può indicarci una strada diversa che al momento non è scritta, quindi dobbiamo pian piano andare avanti, pian piano fare passi, errori, cadute, rialzarci, continuare su questa strada. Quindi secondo me la Bitcoin Conference di Amsterdam un po' è una conferma di questa idea di fondo, ma è anche stata estremamente carente, ragazzi, da un certo punto di vista, poche innovazioni, pochi discorsi, zero parte legata agli investimenti al trading, pochissimi sponsor, ancora questa mentalità, secondo me, un po' a filo troppo di nicchia e poco impattante poi su quella che è la vita di tutti quelli che sono i partecipanti al mercato dell'agritto, tutti quelli che potrebbero anche adorare questo mercato, che però, ragazzi, con questi modi di fare, questi modi di parlare, a volte non li si mette, no? Nelle condizioni di poter comprendere e magari partecipare, perché no, a questa rivoluzione. Quindi sicuramente tanta strada da fare anche in questo. Invece insieme ai ragazzi, agli altri youtuber e altri amici, ragazzi, grandissima lavoro di squadra, è sempre molto bello stare insieme, ovviamente, al di là delle proprie idee, ognuno ha le nostre idee, ragazzi, ognuno condivide dei punti di vista diversi, però poi stare insieme è veramente fantastico. Abbiamo conosciuto Marco Casario, che non avevo mai visto, diciamo, non avevo mai conosciuto, lo conoscevo benissimo su YouTube, ma non dal vivo, e sono stato molto contento con il ciao Marco, lo saluto, chissà se si vede questo video, ed è stata una bellissima giornata anche spesa nel WeWork di Amsterdam, quindi una bellissima esperienza, ragazzi, condividere pensieri, diversi pensieri con altre persone, scambiare relazioni, perché da queste cose, dalla condivisione, dalle idee diverse, contrapposte, nascono sempre i fiori più belli, nascono sempre le idee più belle, le sintesi migliori. Detto questo, io ritorno sui grafici, che poi è il video di oggi, anche perché la mia voce, la sentite, sta soffrendo, ragazzi, come non vi dico, lasciatemi un pollicione, almeno per questo video fatto veramente sotto antipiambatori, perché era impossibile altrimenti farlo. Allora, ragioniamo subito, partendo da quella che è l'analisi dei mercati cripto su Bitcoin, poi faremo Nasdaq, Total Market Cap e Ethereum. Ragazzi, probabilmente, da un mio punto di vista, mi viene l'idea che nella scorsa giornata, questa qui, di 13 di ottobre, sia concluso un ciclo mensile di Bitcoin. È vero che la struttura dei cicli è assolutamente difficile da comprendere nei suoi movimenti di medio periodo. È anche vero che è completamente inutile da un punto di vista di medio periodo, perché questi tipi di cicli, ragazzi, sono tradabili solo sui cicli di 3-4 giorni. Non si possono tradare cicli di questo rumore, diciamo, di mercato di questo tipo, su distanza di 2-3 mesi, perché il mercato fa up and down in dietreggio, quindi non dà la possibilità di portare a casa profitto, quindi gli ingressi sono troppo ritardati, le uscite troppo ritardate. In pratica, un ciclo di medio periodo che si basa sulla questione, magari, del ciclo mensile è inutile in questa fase. È questo il discorso. Però, dal punto di vista tecnico, è probabile che dal minimo del 7 di settembre sia andato a configurarsi un ciclo un po' strano, un po' anomalo, che però prende proprio questa struttura, 36 giorni di ciclo mensile, che poi si è andato a chiudere proprio con il dump prima del famoso pump della giornata del 13 di ottobre, che un po' ce l'aspettavamo, fondamentalmente, quello dovuto all'uscita dei segnali, dei dati, scusate, sull'inflazione degli Stati Uniti. Allora, questa struttura ciclica è un po' strana, perché ha fatto un pump iniziale, poi un subito, una fase che ha breccato addirittura i minimi, configurando questo ciclo mensile, se così è corretto, diciamo, l'inquadratura ribassista, poi ha fatto questo pump che aveva lasciato un po' riflettere, perché è un pump così, con dei settimanali rialzisti, lasciava poco spazio, diciamo, a un'idea che il mensile continuasse a scendere, invece in realtà poi l'ha fatto, e quindi ha fatto un minimo, minimo inferiore, minimo finale inferiore, ciclo ribassista, laterale ribassista, oserei dire, perché in pratica è ribassista per delle nozioni, quindi proprio di pochi dollari, quindi sostanzialmente è un ciclo in barra di congestione. I cicli in barra di congestione sono estremamente numerosi, sono inutili da tradare da un punto di vista di trend, quindi per chi sta cercando posizioni di medio periodo, come vi dicevo, sono ghiotti invece per tradere, per chi fa posizione in 3-4 giorni, quindi assume posizioni long e short, perché l'unica cosa che sta funzionando da 120 giorni su Bitcoin, ragazzi, sono proprio le versioni di trading intraday oppure multiday, ma chiuse in 4 giorni circa, cioè i cicli settimanali e quelli inferiori, quindi quello che si può fare in questa fase, se continuerà questa fase, ma non continuerà ragazzi, perché poi i mercati a un certo punto, le fasi di congestione le interrompono facendo dei trend abbondanti, sia il lato short che il lato longo, però quando avvengono queste fasi che sono le più lunghe del mercato, quelle che durano più di tutte sul mercato, il trading ovviamente ragazzi la fa da padrona e questo è impossibile da negare, quindi questi cicli sono tradabili solo da trader e questo è oggettivo. Da qui probabilmente siamo su un nuovo ciclo mensile di Bitcoin, sto aspettando ancora per avere un po' di conferma, ma non mi aspetto che questo ciclo di Bitcoin mensile sia molto dirompente. Ho preso una posizione long dovuta a una strategia che seguiamo nella mia academy, una strategia mensile, che sta facendo pochissime operazioni, proprio perché da un punto di vista ciclico mensile c'è poco da fare, quindi al momento siamo di nuovo long, ma non è una super operazione, devo essere sincero, credo che la riuscirò a chiudere magari in un piccolo trading, ma non mi aspetto grandi risultati, questo è oggettivamente quello che vi sto dicendo. Da qui stiamo andati a configurare più o meno un ciclo settimanale, ma dobbiamo andare a breccare questo livello di massimo, cioè almeno i 20.000 dollari, per indicare tutta questa struttura orientata appunto al rialzo. C'è da dire che però c'è qui subito e immediatamente una eventuale resistenza nuova, fino a poi quella gigantesca che è proprio in questa zona, che secondo me difficilmente Bitcoin riuscirà a superare se non inizia un ciclo superiore. Quindi questa fase qui potrebbe essere una fase di sviluppo di questo ciclo e andrebbe poi a concludersi ragazzi proprio intorno alla metà di novembre, quindi circa 7-14 novembre. Lo andremo a monitorare perché potrebbe essere il ciclo che va a concludere un ciclo superiore, questo ve lo anticipo, quindi questo ciclo di novembre potrebbe includere una struttura ciclica che va a chiudersi, se lo fa andremo a considerare l'ipotesi che il ciclo annuale di Bitcoin è stato già fatto e già chiuso a giugno, perché poi il vero concetto è questo ragazzi, non abbiamo fatto ancora nuovi minimi oggettivi in shadow, su Bitcoin ci sono nuovi minimi in close, ma non ci sono nuovi minimi in shadow e soprattutto non ce l'ha Ethereum ragazzi e soprattutto Nasdaq non si configura bene con l'idea di una chiusura del ciclo annuale entro pochi giorni. L'idea più probabile si sposta sempre verso il concetto che il ciclo annuale di Bitcoin è stato chiuso a giugno così come quello di Ethereum, come quello della Total Market Cap della DeFi, della Total Market Cap delle cripto e anche dei mercati old. Se così foste, era la famosa ipotesi che io vorrei scongiolare ragazzi, ci portiamo a un ciclo probabilmente ribassista su Bitcoin dovrebbe essere, almeno così dalla breakout che ha avuto dei minimi, anche se è un breakout relativo, quindi io ancora lo tengo fortemente in dubbio, perché non mi piace vedere un breakout di un ciclo del genere di pochi dollari, quindi insomma questo è il concetto. So che la numerosità di questi mercati è abnorme, a prescindere da questo preferisco avere delle conferme da mercati più puliti, come ad esempio Nasdaq, il fatto che Ethereum stesso non abbia virato al ribasso il ciclo iniziato a giugno fa molto riflettere, quindi ci tengo ad aspettare ancora un po', anche perché tanto cambia poco ragazzi, alla fine dobbiamo seguire sempre in trend following, quindi trend is your friend, ve lo dico da sempre, i mercati. Quindi da un punto di vista logico però più passa il tempo, più l'ipotesi che il ciclo annuale di Bitcoin sia iniziato effettivamente a giugno insieme a Nasdaq, Total, Market Capital, Crypto, Ethereum eccetera, è molto più probabile, quindi aumenta l'asticella ragazzi, è questo il concetto, se così fosse poi nei prossimi mesi si potrebbero configurare delle fasi importanti, quindi questo mese di novembre è molto rilevante perché potrebbe chiudere il famoso semestrale se così fosse e da lì magari lasciarsi spazio dopo le mese termo americane di un rialzo di fine anno, perché quello il concetto al mente poi andremo a tradarlo però sapendo anche che potrebbe durare pochissimo, insomma è questo il concetto di fondo. Ancora è irrisolta totalmente la questione dell'inflazione, non abbiamo dati che ci fanno comprendere che l'inflazione è sotto controllo, il dato oggettivamente che vi ho pubblicato anche su Twitter nelle scorse due giornate, anzi vi faccio vedere il grafico. Eccolo ragazzi, allora questo è il mio profilo Twitter, intanto vi lascio il link anche in descrizione del profilo Twitter perché spesso qui pubblico un po' le mie idee, i miei pensieri, no? Faccio un po' e ogni tanto che qualche grafico spunta fuori, questo è il grafico ragazzi dell'inflazione del mondo, World Economy Awaited Inflation, quindi l'inflazione anche ponderata dell'intero pianeta, guardate qui che trend. Qui non c'è nessuna controllo, nessuna inversione, non c'è niente, quindi un concetto di questo tipo ci lascia un po' riflettere. Secondo me in questo momento pensare che i mercati possano iniziare a comprendere che l'inflazione è sotto controllo è un po' prematuro. Io credo che i mercati attenderanno un po' e che i prossimi mesi saranno di congestione, anche quando l'inflazione si fermerà e sarà la stessa abbiamo bisogno poi di vedere un'inversione e all'inversione, ragazzi ricordatevi che non avviene sempre AB di questi mercati ma spesso fa una piccola fase di congestione che potrebbe perché no essere proprio il prossimo trimestre e quindi dovremmo iniziare a vedere una vera e netta inversione della trend dell'inflazione solo da maggio 2023. In poi ragazzi questo configurerebbe quindi un riportarci tutto quello che è un'eventuale fase di ripresa dei mercati reale, vera, quella di una vera burrante nell'anno 2024. Lo so non sono magari delle notizie splendide e quant'altro però ragazzi questa è e questa è quanto. Quindi ritorniamo diciamo invece all'analisi ciclica standard andiamo a vedere quella che è la questione invece di Nasdaq poi passiamo ad Ethereum ragazzi anche Ethereum sta facendo una cosetta interessante. Allora questa è la configurazione di Nasdaq qui in questa fase probabilmente stiamo assistendo a una struttura di chiusura di fase interna a un ciclo mensile che è già iniziato perché l'ultimo mensile di Nasdaq probabilmente è stato chiuso in questa giornata quindi il 3 di ottobre. Se così fosse ragazzi non è lunghissimo come arrivando diciamo fino a questa struttura perché potrebbe comunque esserlo quindi se il mensile di Nasdaq è molto lungo però così un mensile ragazzi perché i mercati old 37 giorni sono un po' tanti perché hanno in ogni caso diciamo anche i sabati e le domeniche quindi sarebbe meglio configurare un ciclo un pochettino più corto però qualora fosse così in questo punto allora iniziato un nuovo ciclo mensile abbiamo spazio di manovra appunto come vi dicevo fino al prossimo 16 di novembre quindi potremmo fare un'app in questa fase per poi andare a chiudere questo ciclo che ancora una volta ragazzi dovrebbe teoricamente essere al ribasso. Un ciclo mensile che chiude il rialzo di Nasdaq in questo punto qua configurerebbe diciamo un'inversione ciclica anche di medio periodo quindi l'inizio o di un ciclo dimestrale o addirittura di un ciclo superiore ma poi quello ne parleremo successivamente. Se questa struttura ciclica non è corretta e quindi se Nasdaq invece ha fatto dei cicli relativamente differenti ha chiuso qui un ciclo mensile allora la strada al rialzo sarà poca ragazzi perché dovremmo avere più o meno una struttura che si confererebbe configurerebbe più o meno in questo modo ed è un mensile già al ribasso quindi sostanzialmente dovremmo fare una struttura così piccolina per poi andare a chiudere la questione. Ora non mi focalizzerò un po' su questa cosa perché attendo comunque delle conferme vi ricordo che questa media mobile è molto importante su Nasdaq perché la media mobile ha 21 giorni è una media che tiene questo trend al ribasso sotto da agosto del 2022 molto rilevante non è una media stranile levante come sul ciclo settimanale che il ciclo settimanale le 21 settimane sono state molto rilevanti a indicare alcune cose vedete quindi queste sono veramente molto distanti quindi ce ne vuole però per il breve periodo può essere presa in considerazione quindi un'eventuale continuazione di questo trend rialzista sopra degli 11.800 per Nasdaq configurerebbe che da questo minimo è iniziato un nuovo mensile e quindi questa struttura ha chiuso qui. Se invece il mercato si ferma al di sotto di questo livello inizia a cincischiare potrebbe essere proprio che il mensile iniziato qui è già ribassista e quindi anche questo rialzo avrebbe le ali tappate le ali tappate. Questo è proprio il concetto secondo il quale ragazzi un po' mi lascia perplesso la questione rialzista al momento quindi ho preso una posizione long seguendo le mie strategie su bitcoin ma non mi aspetto chissà cosa ecco questa è un po' quello che penso però al momento seguo comunque questo trend anche perché Nasdaq oggi sta facendo un bel recupero e quindi ho preferito essere trend follower anche ancora una volta e seguire appunto il trend long del mercato. Andiamo a vedere invece Ethereum e vi faccio vedere anche la questione ciclica di Ethereum. Ragazzi allora la questione di Ethereum secondo me è un pochettino più chiara io su Ethereum vedo una struttura ciclica che può aver fatto, vi faccio comprendere il concetto un ciclo piccolo chiuso nella giornata del 21 di settembre perché potrebbe aver sviluppato da qui due cicli mensili collegati insieme quindi a forma ternaria scusate oggi sono un po' anche influenzato ragazzi scusatevi se sbaglio un po' i termini. Allora se così fosse anche qui vedete andiamo comunque verso una struttura intorno al 10 di novembre a chiudere l'Ambara Damm generale ma dovrebbe essere una struttura a cicli ternari o potrebbe essere una struttura a cicli ternari così sviluppata vedete con un lato fatto così che poi va a chiudere tutto la struttura con l'ultimo trend. Ora anche questo c'è da dire ragazzi che se questa view è giusta è difficile che Ethereum riesca a salire qui. Ci può solo arrivare pian piano ma poi non avrà la forza e dovrà ritornare a chiudere la struttura ciclica. Quindi i 1400 su Ethereum 1420 questa zona qui un po' più rialzata dei 1400 standard rappresenterebbero una super resistenza che qualora venisse breccata con violenze quindi Ethereum si spottasse qui allora secondo me questa struttura indicherebbe che qui è stato fatto un minimo di un ciclo superiore e lì andremo poi a risistemare i nostri settaggi. Al momento quello che ritengo più coerente con questa view è considerare questa forma ciclica anche su Ethereum e quindi una struttura a cicli ternari piccoli fatti così che andrebbe a concludersi proprio nella prima decade di novembre. In questo caso perché è long? Allora voi magari insomma di fatto perché il trend è long in questo momento? Secondariamente perché se è anche iniziato un mensile su Bitcoin la prima parte la sviluppa comunque long è un trading che dovrebbe chiudersi entro 5-6 giorni quindi appunto come vi dicevo è un trade ragazzi non è una position di medio periodo potremmo comunque salire qui e perché no magari posso anche sbagliarmi quindi questo discorso qui indicherebbe che qualora io mi stia sbagliando dal punto di vista di previsione sono comunque a favore di trend e poi se dovessi modificare quelle che sono le analisi e le view in base al mercato a quello che mi indica sarò comunque a favore di trend questo è molto rilevante quindi io in questo momento ho preferito prendo una posizione a favore di trend piccola gestendola in position sizing molto piccola in maniera tale che la posso gestire molto bene anche se dovesse scendere e poi giocare un po' d'astuzia no ragazzi quindi quando siamo arrivati all'osnoto centrale puoi andare a vedere che cosa mi dice il mercato questa secondo me è la soluzione più intelligente da fare in questa fase vi faccio vedere l'ultimo grafico il grafico della total market cap delle cripto valute proprio per farvi vedere come l'ipotesi che della struttura ciclica che possa essersi chiusa a giugno si fa sempre più realistica e con molta più probabilità perché ragazzi perché qui abbiamo una struttura che teoricamente ha fatto 357 giorni fino a giugno questo lo sapevamo potevamo andare avanti perché di solito il mercato fa di più nel mercato delle cripto è anche vero ragazzi che questo è un ciclo teoricamente ribassista quindi potrebbe essere più corto e quindi starebbe bene anche un ciclo da 357 un po' cortino dire la verità mi aspettavo un po' più di tempo però ragazzi stiamo andando troppo in là qui minimi non se ne vedono anche se io vi faccio vedere la struttura della close il minimo sarebbe fatto il 27 di giugno nella settimana 27 di giugno a 371 giorni e insomma ragazzi potrebbe essere che qui insomma andare avanti vedete fino a novembre configurerebbe un ciclo annuale da 500 giorni secondo me un po' troppo rispetto anche a un concetto fondamentale cioè il fatto che il mercato delle cripto stia in questa fase molto correlandoci ai mercati old i mercati old fanno cicli più piccoli perché hanno sabato e domeniche chiuse e quindi andare a ragionare su un ciclo troppo lungo secondo me è un po' non è proprio intelligente quindi sto iniziando a sposare l'idea che su questo minimo di giugno si è iniziato effettivamente il ciclo annuale delle cripto ciclo annuale che non ha avuto praticamente un esito di nessun tipo perché come vedete anche qui non c'è stato praticamente niente c'è stato un piccolo bump fino ad agosto ma poi da lì in poi niente di fatto quindi è una barra di congestione in sostanza nessuna operazione nessuno holding e niente di nulla quindi anche qui da un punto di vista operativo non è stato perso nulla e l'unica cosa che ci interessa questo ragazzi perché? perché qualora il mercato dovesse rompere nei prossimi mesi questo minimo configurerebbe una inversione del ciclo annuale al ribasso e questo indicherebbe solo una strada cioè short e ribassi fino alla fine del ciclo annuale questa è un po' la questione importante quindi ragioniamo sui cicli lunghi per capire se siamo in una condizione di poter assistere nei prossimi mesi a una vera bull run cioè non al ribalzo dei due mesi a fine anno che secondo me potrebbe esserci ragazzi un ribalzo da metà novembre a metà di dicembre quello ci potrebbe essere ne parliamo nei prossimi video ma io vi parlo di una vera bull run che può durare sei mesi sette mesi ragazzi quella è tutta altra cosa e soprattutto diciamo ci configurano in un nuovo momento storico che probabilmente a livello finanziario economico in questo caso ancora non c'è detto questo fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate di questa musica che voi state prendendo per esempio delle posizioni long o short sul mercato e confrontiamoci come sempre io per oggi vado a prendermi qualche farmaco è tutto noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi